Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi vi farò vedere come scaricare Autonast gratis per prima cosa andare su Internet Explorer un attimo solo perché non si carica ecco allora scrivere gaming.us e vi dovrà caricare questa pagina questa qui il sito è questo qua poi ve lo metterò in descrizione allora per prima cosa scrivere nella barra di ricerche nella barra di ricerche in search scrivere Autonast cercare e vi dovrà uscire questo gioco del gioco vi si aprirà questa pagina in cui vi dirà quanto è grande il file il file è 2,79 giga a me ci hanno messo un paio d'ore però in base alla connessione a banda larga che avete potrebbe andare sia più veloce che più lento cliccare su per scaricarlo per scaricarlo bisogna avere sia o uTorrent o BitTorrent vi si aprirà la pagina vi si aprirà la pagina di AdFile dobbiamo attendere 5 secondi cliccare in avanti vi uscirà il download qui sotto questa parte la taglio ecco vi uscirà questo file qui sotto e vi si aprirà BitTorrent BitTorrent poi vi metterò il link in descrizione vi si aprirà BitTorrent questi sono i file noi dopo aver scaricato il gioco in sé vi dovrà uscire qui lo stato condivisione dopo che vi è uscito il file dopo che è stato scaricato io adesso lo elimino perché ho già lo scaricato si andiamo su download sulla cartella download in esplora file e vi uscirà questa cartella con scritto RG Mechanics Outlast fate doppio clic e vi usciranno questi queste due no veramente molte di più perché io ho già lo installate e vi uscirà il setup il setup poi dovete cliccare sopra e dovete far partire il setup una volta finito vi uscirà l'icona come qui l'avviate e partire il gioco per oggi è tutto arrivederci al prossimo video e vi uscirà